Buongiorno, siamo arrivati a un'altra pillola pedagogica di Bibliu. Questa volta però ci riferiamo alla giornata mondiale che ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone su il disturbo autistico. Infatti oggi è con noi una persona estremamente competente, la persona più competente che conosco in quest'ambito, ed è la dottoressa Elisabetta Negroni, docente di sostegno da 40 anni, esperta di inclusione e tremendamente modesta, per cui dice molto meno di sé di quanto in realtà è. Io per mantenere alta l'attenzione di chi ci sta seguendo, porrò ad Elisabetta subito tre quesiti. Il primo è molto generale ma è determinante perché non tutti dobbiamo conoscere questa sindrome e quindi andiamo a capire effettivamente di cosa si tratti. Dottoressa Negroni, Elisabetta Negroni, cosa si intende per disturbo dello spettro autistico? Buongiorno a tutti, buona giornata. Allora, nell'ambito dei disordini del neurosviluppo, gli autismi o i disordini, i disturbi dello spettro autistico sono un gruppo eterogeneo di disordini che vede compromessi degli aspetti sia nella relazione sociale, sia nella comunicazione, che nel linguaggio con la presenza di comportamenti ripetitivi e interessi ristretti. Nella componente neurofunzionale possono essere collegati dei deficit percettivi, dei deficit emotivi e dei deficit cognitivi. Ma tengo a sottolineare che c'è una varietà di tipologie cui corrispondono altrettante differenze tra le persone per cui da una lieve difficoltà al disturbo conclamato c'è una gamma di sfumature infinite. anche perché ogni persona che rientra in questo spettro presenta un unicum nella combinazione che presenta fra le aree cognitive, fra le aree comportamentali, fra le aree dell'interazione sociale e così via. Tengo anche a precisare che l'autismo non è una condizione univoca, ma piuttosto è un insieme di condizioni neurologiche associate così strettamente ad altre che possono essere bioenzimatiche, eccetera, così strettamente, così ad personam che effettivamente è difficile scenderla. Ecco perché bisogna guardare a quella persona, come si fa con tutti peraltro, non solo con le persone che appartengono allo spettro autistico. Molto chiaro. Quindi Elisabetta Negroni ci sta dicendo che se possiamo dire che, non lo so, una malattia di tipo gastrointestinale è quella, quando parliamo, o possiamo anche dire che ci sono alcune psicosi che si ripetono, quando parliamo di disturbo dello spettro autistico, dobbiamo proprio andare a vedere chi abbiamo di fronte. Quindi dimentichiamoci, grazie, dimentichiamoci di immagini iconografiche, cinematografiche, perché possono passare anche un'idea non corretta del disturbo dello spettro autistico, anche perché riporto quello che Elisabetta mi ha insegnato in tutti questi anni, all'autismo può andare da zero a cento, cioè ci sono molte sfumature di disturbo, ci può essere anche un versante autistico, possono esserci delle persone che hanno un versante autistico e nessuno gliel'ha mai diagnosticato. Andiamo però a vedere quando l'autismo effettivamente è presente in modo manifesto e un genitore, un educatore, parliamo quindi di chi ha a che fare con i bambini nei primissimi anni di vita, non sto andando all'insegnante della scuola secondaria di primo grado, sto proprio parlando di genitori, educatori, nonni, vicini di casa. Quali sono i segnali ai quali un educatore o un genitore deve porre attenzione? E non sto dicendo quando si deve allarmare, perché Elisabetta Negroni poi ci dirà che non si deve parlare necessariamente di disastro e di dramma, ma andiamo a vedere proprio come sta il bambino, no? Quindi quali sono i segnali ai quali dobbiamo porre attenzione per essere i più tempestivi possibili, possibile nell'intervento? Allora, la cosa per me fondamentale che un genitore ovviamente sa fare grigiamente è osservare e annusare e ascoltare. Porsi in ascolto e raccogliere delle informazioni con un'apertura rispetto a quelle che possono essere capacità, potenzialità, punti di forza o difficoltà è inevitabile se vogliamo andare a vedere la persona. Allora, intanto le informazioni io le raccoglierei nell'ambito dei cinque domini che sono poi quelli a cui si riferiscono anche tutti i modelli di intervento, penso al Denver, ma anche tutti i più recenti. I cinque domini per cui raccogliere le informazioni attengono alla questione dell'imitazione, alla comunicazione non verbale, alla comunicazione verbale, allo sviluppo sociale e al gioco. Quindi dobbiamo raccogliere. Poi, in seconda istanza, parlando di autismo, starei alla regola delle tre categorie. Date tre categorie, solo disturbi della comunicazione, solo disturbi del movimento e del controllo posturale, solo disturbi di processazione sensoriale. Se il bambino, la persona che io ho davanti e che descrivo, rientrano nella prima, cioè in una o in due di queste categorie, non posso parlare di autismo. Per parlare di autismo devono rientrare in tutte e tre le categorie, altrimenti è disturbo della comunicazione, altrimenti può essere disturbo della coordinazione motoria o disprassia e così via. Quindi, fatto questo, io apro una parentesi e la chiudo subito, a operatori e insegnanti, segnalo, lo sanno benissimo, che prima di avviare questa attività di puntuale osservazione, volta a cogliere i dettagli, che sono la cosa fondamentale, proprio osservarli, ascoltarli, un'intervista con i genitori che rimangono i maggiori conoscitori del bambino, ai nostri maggiori alleati, è essenziale, proprio per vedere di questo bambino in ottica del come opereremo, cosa piace, cosa disturba, verso cosa va, verso cosa si ritrae, cosa lo spaventa, a cosa bisogna stare attenti, quali sono le sue abitudini e così via. Ogni informazione, lo ribadirò anche alla fine di questa intervista, ogni informazione sarà una dei tasselli che mi permetterà di programmare un intervento. E parlando proprio di segni, allora, cosa guardiamo? Per esempio, se io mi sfiora l'idea di una difficoltà di quella tipologia, vado, è perché ho visto delle anomalie, della socializzazione, possono essere la mancanza di sorriso sociale, la mancanza di risposta al nome, il contatto oculare povero, la preferenza per giochi solitari, quindi un certo isolamento, oppure possono esserci anomalie nel comportamento, delle crisi di collera, dell'oppositività, iperattività o passività, un uso non adeguato dei giochi e dei giocattoli, un attaccamento inusuale per alcune, per alcuni ambienti, per alcuni rituali, dei movimenti pizzarri, oppure posso aver osservato delle difficoltà nell'interazione, quindi disturbi precoci nell'indicare una cosa importantissima su cui magari torneremo, perché il fatto che un bambino non sappia indicarti dove è male, oppure che per raggiungere un oggetto che vuole ti prenda il polso e ti conduca perché non riesce a farlo lui, non riesce a raggiungerlo lo scopo, oppure, questo già ci dice insieme ai movimenti bizzarri, insomma, nell'interazione, nelle difficoltà di interazione, possiamo assistere a un'attenzione congiunta che non c'è, a un divertimento congiunto che non c'è, a un'attenzione condivisa che viene a mancare, a una difficoltà nella comunicazione, ripeto, sia nel pointing gestuale e dichiarativo, che è importantissimo, sia nel difficoltà dell'alternanza, allo scambio, per esempio il turno semplicemente a coppia, se ci sono incapacità a tornare, io parlo, tu ascolti, tu parli, io ti ascolto, capiamoci, insomma, potrebbero esserci dei segnali. E poi tutta la sfera della comunicazione, se c'è un linguaggio che tarda, se c'è un linguaggio povero, se appunto manca la gestualità, anche magari la mimica facciale, se c'è un'ecolalia persistente, se si ripetono e si iterano frasi, più e più volte, quasi a rassicurare, quasi a creare dei mantra, insomma, lì io comincerei a valutare. Poi c'è tutto l'insieme delle funzioni, delle esecutive, può esserci, come dicevamo prima, sia un disturbo dell'indicazione, quindi la capacità di nominare, far sapere cosa si vuole, che cosa serve, e quindi comunicarlo, sia la questione dell'orientamento del gesto, metti di fronte tre oggetti, gli ne chiedi uno, lui guarda quello che tu hai chiesto, però ne prendi un altro. Questa è una difficoltà nell'orientamento del gesto. Poi c'è la difficoltà nella pianificazione del progetto, cioè lui ha capito cosa fare, ma non sa organizzarsi per fare quella cosa. Altra cosa, la conseguenzialità, mettere insieme le sequenze, tu gli chiedi, apri l'astuccio, oppure apri l'astuccio, prendi il pennarello arancione, già solo questi due comandi, lui va verso l'astuccio, prende l'astuccio, poi è come bloccato, non riesce ad andare avanti. E ultimo, ma non ultimo, la questione del problem solving. Vediamo bambini che giocano con la palla, la palla si incastra, magari tra le sedie, loro vedono, ma non sono capaci di selezionare la funzione esecutiva per non andarla a recuperare. Penso di essere stata, io spero sintetica, perché ci sarebbero... Come pedagogista, spesso le educatrici mi dicono, appena cambio, i genitori chiedo scusa, appena cambio un'abitudine, il bambino si investia. Cosa vuol dire? Allora, questa è un... apre una porta. Allora, io... c'è il metodo teach, che io ho avuto un modo di imparare, anche di prendere degli spunti molto interessanti, che comporta che il bambino viva bene e a suo agio in una situazione dove tutto è previsto, nella sua misura, Tutto... ci sono delle buone prassi, che seguono una routine, è tutto composto sulle misure. Secondo me questo va bene per il bambino autistico, ma lo chiude in una gabbia. Bisogna che questa difficoltà al cambiamento, e qui mi rifaccio a un argomento che mi sta molto a cuore, che è quello del togliere per questi bambini, per le persone che rientrano nel spettro dei disturbi autistici, la questione dell'ansia. Bisogna che noi inventiamo qualsiasi modo per eliminare, non è possibile, ma per sottrarre al massimo, il bambino dà un'ansia da esposizione, che lo blocca, dà un'ansia da prestazione, che lo blocca ancora di più, dà un'ansia del cambiamento. Ma, quindi, possiamo concedere ampio spazio alla predittività, ma dobbiamo anche cominciare progressivamente a inserire la possibilità di scelte, di alternative. Il bambino non va bloccato in quella situazione che lo rassicura. Il bambino va fornito di strategie per poter sapere come affrontare, con le dovute informazioni, rassicurazioni, e anche esercizio, abitudine a questo, cominciare a affrontare dei piccoli cambiamenti, perché se i cambiamenti gli creano uno scompenso perché non sa più, non ha più le cose sotto controllo o ha questa sensazione, gli dobbiamo fornire gli strumenti intanto conoscitivi, poi il nostro supporto di energia e poi il sapere, anche attraverso le storie sociali, attraverso immagini, eccetera, che cosa succede se, quindi noi mettiamo in calve quella la strada che tu fai ogni giorno, però guarda che potremmo anche doverla cambiare, allora se la cambiamo, cantiamo quella canzoncina che ti piace, tu magari non guardare fuori dal finestrino e la prossima volta riprendiamo... Quindi sono bambini che stanno assicurati. Una volta va abbassata la soglia dell'ansia perché l'ansia è quella che può ridurre ogni prestazione. Altra cosa è tutelarli, ma non eccessivamente preparandoli e passando magari proprio come dicevo prima dal visivo. Sono bambini nella maggior parte che hanno bisogno più del visivo che dell'uditivo perché l'uditivo può creare delle grosse confusioni. Io all'inizio, 43 anni fa, prima mia esperienza con Pamela, questa bambina bellissima e particolarissima, continuavo a parlare per prepararla a quello che sarebbe successo dopo, guarda che adesso usciamo, io con Pamela ci ho vissuto. E quindi era tutto un parlare. Mi sono accorta anni dopo che l'avrò veramente intontita e non so quale altro problema gli ho aggiunto a quelli che aveva nella mia convinzione di far bene perché la conducevo, secondo me. questo da una parte magari è servito, ma dall'altra ha creato sicuramente un ingorbo perché noi spesso parliamo troppo, io all'inizio ho parlato sicuramente troppo, ascoltiamo meno. Invece il fatto di aspettarli, di attenderli, di dare loro i tempi, di puntare a una qualità della vita qui adesso, il più alta possibile, al loro benessere, implica che dobbiamo attenderli, implica che dobbiamo fermarci, aspettarli, implica che dobbiamo mettersi al loro servizio allargando invece che pensando alla nostra ansia di ottenere, questo per gli insegnanti e per gli operatori, ma anche per i genitori. Per i genitori, quindi diciamo questi segni caratteristici tra cui appunto l'andare in crisi quando c'è un cambiamento, i genitori mi parlano anche di ho spostato semplicemente la saponetta, non era al solito posto e questo ha provocato una crisi di rabbia. Ho due cose importanti, sapere cosa innesca la crisi per poterla prevenire e appunto lavorarci e quindi poter vedere i segni premonitori, c'era un mio bambino che stringeva i denti, c'era un altro che aveva uno sguardo particolarissimo quando stava scatenando, allora in quel momento è importantissimo distrarli, cambiare ambiente, proporre un'altra attività che a loro piaccia, eccetera. Altra cosa riguardo quello che mi stava dicendo, nel momento di spostare l'oggetto, allora perché non fotografiamo la tavola con gli oggetti posti in maniera diversa e non glieli somministriamo visivamente? Perché? Perché poi dall'immagine, insomma, sposta tu, sposto io, ecco, può essere un gioco che può significare che lo spostamento non sia più sconosciuto, non sia più un malessere, ecco, perché non si sa dove va l'oggetto. Questo, in un certo senso, Elisabetta Negroni, ci porta, mi mette nella condizione di aver già percepito una risposta al mio terzo quesito, perché io le avrei chiesto come si interviene e in effetti abbiamo già in pochi secondi abbiamo capito che ci può essere il bambino che ha bisogno di previsione, il bambino che ha bisogno di essere distratto, il bambino che ha bisogno di una strategia perché la mia domanda era, la domanda che può fare un educatore o un genitore dell'ultima e forse quella più drammatica o comunque più particolare, si può curare l'autismo? L'autismo ad oggi, ed ho detto, essendo una condizione così complessa per severità, per complessità, così intricata ad oggi, che io sappia, nel mio piccolo, anche avendo contatti con neurobiologi, genetisti, eccetera, per il momento no, anche se la ricerca continua, ma si può intervenire in modi infiniti, bisogna, come dicevo prima, distinguere, per esempio, tra ciò che un bambino non vuole fare e tra ciò che non può fare e non insistere sulla seconda, bisogna concentrarsi su ciò che è in grado di fare piuttosto su quello che non può fare, i famosi punti di forza ci servono, una volta osservati, come leva per poter aprire lo spettro, per poter, faccio un esempio stupidissimo, Davide aveva imparato in seconda elementare della tabellina del bambino autistico grave che con delle crisi di aggressività e di autolesionismo, aveva imparato le tabelline benissimo con la loro memoria particolare e le ha insegnate a tutti i compagni. lui le diceva 2, 4, 6, 8, 10, eccetera, però questo ha significato un esercizio per tutti che sonoramente insomma è entrato e tutta la classe alla fine della seconda invece di sapere poche tabelline le conosceva tutte grazie a Davide. Poi, scusi, bisogna fare attenzione a ogni modo in cui cercano di comunicare perché ci sono questi modi non sono i nostri Luca meraviglioso ci ho messo un anno per capirlo io e i genitori con me lui era appassionato di film di Disney cartoni animati estrapolava delle frasi da canzoni o della Sirenetta o di Lili il Vagabondo o degli Ristogatti per improvvisamente diceva questa canzone con una vocina cantando e ci dava dei segnali ma lo capivamo sempre per dire bisogna raccogliere tutto poi è un pensatore concreto per cui interpreta il linguaggio letteralmente stiamo attenti a usare metafore pronomi quindi ti voglio bene col cuore in mano per loro è che prendo il cuore e lo tengo in mano qua puoi immaginare come no è come a livello come i sordi come i sordi profondi che non riescono è difficile che arrivino a concepire questo altra cosa è identificare ehm la funzionalità altra sensoriale è un argomento a cui tengo tantissimo ed è importantissimo ognuno di noi funziona con le cinque finestre verso la realtà i nostri cinque sensi con un lieve iper o un lieve ipo per loro la cosa può essere massimale faccio un esempio eh se Pamela aveva non lo sapevo aveva un ipo visivo era un ipo visiva per quello a Venezia ogni volta che c'era un ponte o c'erano delle scale si metteva a urlare come una disperata in mezzo alla gente fino a che io non ho avuto l'immunazione al ponte di Rialto di mettermi davanti a lei e farla scendere mettendomi davanti a lei perché non metteva a fuoco quindi era spaventatissima e questo è un esempio di ipo altre persone che annusano la propria saliva vanno di preferenza nei bagni prendono e giocano con le loro feci è probabilmente un problema di ipo il fatto vanno alla ricerca ecco ipo vuol dire ricercare quello stimolo perché non è sufficiente iper vuol dire difendersi da quegli stimoli per cui i bambini che sono monotematici nell'alimentazione probabilmente si stanno difendendo da gusti che reputano aggressivi e anche lì c'è un'infinità di cose per intervenire progressivamente attraverso l'informazione visiva attraverso dei piccoli mh dei piccoli esercizi annusando le cose a cominciare dalle più soft andando a finire come facevo io con la cipolla con l'aglio la varichina il deodorante del tapai e così via altra cosa non finirò mai di dirlo ridurre l'ansia capire che certi malesseri dipendono proprio dall'ansia anche dal fatto per esempio nel caso di Davide ha dovuto essere abituato a affiancare il compagno aiutarlo però per lui mettersi davanti ai banchi o vicino a un banco era un'ansia da esposizione incredibile anche quando noi chiediamo qualcosa se non lo capisco bene se non ti capisco bene se ho confusione e i sensi non mi si sincronizzano io sono in un inferno sta a me capire quando c'è un benessere quindi catturarlo e ricordarmi quali sono le condizioni per altra cosa importantissima è mi è sfuggita ce l'avevo qua ma mi è sfuggita e vabbè ne prendo un'altra dare nomi alle cose spesso i nostri questi bambini parliamo di bambini non hanno le parole letteralmente quindi ricordando per esempio degli insegnamenti di Domane Delacato che metteva i cartellini con le parole io per esempio ho il mio metodo che attacco alla sedia la fotografia della sedia la parola sedia e riempio e tappezzo io così ho insegnato a leggerle a quasi tutti il 90% è sempre impossibile ma è così stampato maiuscolo rosso su fondo bianco è un ha una comprensione laterale il ragazzino e il bambino autistico faccio un esempio stupido che mi è venuto in mente l'altro giorno Sandro non avrebbe mai risposto in quinta quarta elementare alla domanda chi era Carlo Magno però se io gli dico la notte di Natale dell'anno 800 Carlo Magno sì ancora un imperatore viene alla risposta quindi abbiamo 10.000 trucchi dobbiamo appellarci a tutta la nostra creatività dobbiamo formulare frasi domande che siano frasi da completare da concludere solo così possiamo metterci in grado di capire quello che sanno perché sanno sempre più di quello che noi ipotizziamo sentono sempre più di quello che noi ipotizziamo sentono emotivamente talmente tanto che questo diventa proprio una gabbia perché sono esposti nudi Pamela non sentiva differenza fra dentro e fuori molti e molti altri bambini quando quando agiscono sullo sciacquone e hanno defecato si sentono pezzi di sé che vanno via Luigi non distingueva gli uccellini che erano fuori e che cantavano dovevano chiudere le finestre perché erano invasivi per lui ancora Pamela mi ricordo quando passava un aereo o c'era l'aspirapolvere al piano di sopra perché c'era un iperudito lei era ipovista ma era iperuditiva e così via io vorrei chiudere questo vorrei chiudere questa breve pillola ringraziando il regista dottor Giovanni Caron ovviamente ringraziando Elisabetta io ho Elisabetta anche oltre ad avere a tenere dei percorsi universitari scrive scrive molto bene e io ricordo un suo libro intitolato Ognuno per me che ho amato moltissimo dove raccontava i suoi casi in modo molto poetico sarà mia cura mettere nella pagina facebook di Biblio quello che spero essere a breve il prossimo libro di Elisabetta anzi una rivisitazione con un completamento di questo libro che avrà un altro titolo ma che racconterà tutti i casi che ha seguito e che saranno molto utili per educatori insegnanti docenti che sarà edito dall'edizione Bette e che proprio troverete questo suo modo di parlare che è affabulante affascinante lo troverete nero su bianco almeno io vedo leggo e sento attraverso il racconto il mondo che hanno dentro questi bambini quello che ho capito grazie ad Elisabetta è che la sindrome di Down è un bambino che ha un mondo dentro il bambino autistico è un bambino che forse ha ancora più mondi dentro il bambino con una tetraparesi spastica in realtà è un bambino che ha un'ipersensibilità a livello di tutto il corpo e che ha un suo pensiero e quindi ascoltare Elisabetta mi ha permesso di affrontare i bambini e le persone con un'abilità diversa dalla mia sapendo che questa diversità al di là della retorica nella quale cadiamo tutti questa diversità può essere molto affascinante però bisogna bisogna trovare bisogna capirla bisogna tirarla fuori e quindi non è il bambino handicappato che deve uscire dalla classe ma è quel bambino che ha delle qualità tale per cui potrebbe essere addirittura interessante per la classe poter scoprire la sua voce quando canta o la sua memoria incredibile ho visto ricordo una bambina di cui non faremo il nome che disegnava dei cavalli è vero disegnava sempre i cavalli ma erano perfetti mai visto una cosa così perfetta quindi possiamo sì è vero possiamo trovare hai ragione vanno avvicinati preservando il loro benessere la loro dignità vanno avvicinati e valorizzando ogni cosa perché veramente possono essere un'occasione per tutti i miei sono stati così da Beatrice che era uno dei primi impianti cocleari qui a Padova che sapeva l'allenamento acustico è stato terrificante ma era l'unica che sapeva in prima elementare allacciare le scarpe e le allacciava tutti i compagni che erano imbranati e lo sono rimasti fino alla quinta questo per per togliere un attimo anche non la retorica ma l'enfasi da questo per gli altri sono sicuramente un'occasione però loro vogliono semplicemente star bene vivere in mezzo agli altri e noi dobbiamo fornirli queste strategie questi passaggi per poter collocarsi nel mondo trovare il loro mondo trovare il loro stare tantissimi bambini appartenenti allo spettro di disturbi autistici avevano per esempio riscontrato una memoria visiva incredibile ma anche una possibilità di analisi di discriminazione visiva su cui far leva per l'insegnamento della lettoscrittura per esempio ma anche su altro le loro peculiarità caratteristiche personali se noi guardiamo oltre verso un orientamento lavorativo verso un orientamento ci possono ci possono aiutare a definire per esempio che la meticolisità la pignoleria la capacità di ordinare in un certo modo già sono una breccia per un futuro lavoro con delle fotocopiatrici con un archivio con una sistematizzazione della biblioteca e così via ma anche con il magazzino del supermercato certo è possibile dare loro una vita dignitosa autonoma e a volte anche piacevole io ricordo oltre a puntare sul piacevole il piacevole hai ragione non vale il gioco non vale altrimenti non ne vale la pena io chiudo ricordando lo dico a Giovanni che ha una particolare conosce per la relazione tra i bambini e gli animali che Elisabetta ha fondato il primo centro di ipoterapia in che anno Elisabetta? mamma mia ne ho fondati quattro il primo da sola a Lido di Venezia non mi ricordo neanche più avevo 23 anni ora ne ho 65 e l'ultimo beh il penultimo a Palmanova di Udine ci tengo a dirlo con la caserma di Cavalleria Quarto Genova Padovanel c'è stata un bellissimo bellissima esperienza completamente gratuita agli utenti dai 2 ai 18 anni grazie anche a quella che era l'assessore Luisa Boldrin ed è stato il primo centro riconosciuto non come ricreativo non come ricreatività ma come terapeutico perché sono stata studiata da dei fisiatri dei fisioterapisti e dei psichiatri tra cui Botos che manca a tutti noi insomma il dottor Botos sì l'animale la pet therapy ma anche i delfini ma anche un criceto non parliamo del cavallo che lì funziona su tantissimi livelli ma questo è un altro mondo un'altra storia io ringrazio moltissimo Elisabetta ascoltarla vi farà capire perché dipendo dai suoi racconti da tanti anni ringrazio Giovanni Caron che oltretutto abbiamo fatto tardare perché ci siamo come tutte le persone molto creative io e Elisabetta abbiamo dei grossi limiti dal punto di vista tecnologico vi saluto la prossima pillola la vedremo quanto prima lascio Elisabetta l'ultimo saluto anche io ringrazio tantissimo Giovanni che è stato pazientissimo e mi ha condotto a manina perché le mie difficoltà ogni lezione online con università con le interclassi eccetera erano per me fonte d'ansia è una disabilità pesante la nostra grazie a te avremo modo di parlarne e Giovanni ancora grazie infinito grazie Giovanni a presto alla prossima pillola pedagogica